Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La celebre conduttrice televisiva Antonella Clerici ha mantenuto la promessa fatta durante la sua convalescenza. Recarsi ad Assisi per pregare sulla tomba di Carlo Acutis, il giovane beato che ha sentito accanto a sé durante un momento difficile della sua vita. Attraverso le sue storie su Instagram, Antonella ha condiviso la sua presenza nella città Umbra, mostrando un sorriso sereno e un messaggio semplice. Assisi, come promesso. Durante la sua recente convalescenza, Antonella Clerici ha parlato del profondo legame spirituale che ha sviluppato con Carlo Acutis, beatificato nel 2020. La conduttrice ha raccontato di aver notato ripetutamente l'immagine di Carlo sul suo telefono mentre navigava in rete, pochi giorni prima di scoprire di avere un problema di salute. Questo segno ha rafforzato in lei la convinzione di dover pregare proprio il giovane beato, chiedendo anche ai suoi follower di unirsi a lei nelle preghiere. Dopo aver trascorso le vacanze in Normandia e aver partecipato a una sagra a Grondona con la famiglia e gli amici, Antonella è finalmente giunta ad Assisi. Qui ha vissuto una giornata di riflessione e gratitudine, senza però condividere dettagli intimi del suo momento di preghiera. La Clerici ha scelto di mantenere riservato questo momento personale, limitandosi a pubblicare un semplice selfie che riflette la sua serenità interiore. Pur non frequentando assiduamente la chiesa, Antonella Clerici ha sempre avuto una profonda fede, credendo nel potere speciale di alcune persone di cuore e di fede. Dopo l'intervento, la figura di Carlo Acutis, che era stata così presente nei suoi pensieri, è scomparsa dal suo telefono, confermando alla conduttrice la sua convinzione di dover ringraziare e che era stata così presente nei suoi pensieri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.